Teatro Magro presenta, senza niente quattro, il regista con Flavio Cortellazzi, regia Teatro Magro. Oggi abbiamo l'onore di intervistare il regista e cofondatore di Teatro Magro, Flavio Cortellazzi. Ho visto uno spettacolo teatrale in cui suonavo la chitarra elettrica, solo quello. Spettacoli di narrazione dove ti danno le tagliatelle e te le raccontano, e c'è sempre il preghieno, come in trattoria. Stop! Ho visto uno studio. Uno studio. Uno studio. Ma prima studi e poi quando sei pronto io vengo a vederti. Su, tu, tu. Vieni da la palla per favore, è mia. Io ho visto il brutto anafogolo con ragazzi diversamente abili in cui il protagonista, il brutto anafogolo, era l'unico ragazzo in carrozzare. Io vi giuro che l'ho visto e di questo mi chiedo perdone. Flavio Cortellazzi, da regista ad attore da Teatro Magro a protagonista centrale. Ci racconti un po'? Ma è proprio vero che lei non sorride mai? Grazie. 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 Grazie.